Ciao a tutti ragazzi, sono Ale Davionotron98 e sono qui in compagnia di Anderich1613, Ferrarista95 e Fred De Palma è molto emozionato. Come avrete capito è il secondo episodio di One MC Contro Tutti. Abbiamo appena preso la notizia che forse Anderichy non è bocciato, abbiamo appena preso la notizia che Ferrarista è morto. Un minuto di raccoglimento. Raccoglimento. Anche di raccoglimento è la stessa cosa. Commentate se pensate che alle navi sei più intelligente di Anderichy. Comunque, niente, stiamo giocando ancora questo e stiamo utilizzando ancora questa, purtroppo, perché io la siera acquisizione ce l'avevo e appena stavo registrando il primo video con la siera acquisizione ho spaccato a metà. Tu l'hai notta. E tu l'hai notta. E l'ha appoggiato sulla chiavetta e c'era il computer sulle gambe, no? Ero seduto, mi sono appoggiato, ho appoggiato sulla chiavetta, crac. Ora, raccontiamo tipo, cerca su internet, raccontiamo qualcosa, tipo le peggiori domande che ho fatto sui avanti. No. No, vai, si che sanno, cazzate. Io ho pare, Fred De Palma. E mi si contro tutti. Allora, Fred, ci sei. C'è, c'è. Ma cos'è? E' vero che tu, Fred, fai sempre... Ma a me mettere il cecchino su. No. Allora, abbiamo messo una MP7 oro, perché io ce l'ho oro. E' l'unica arma che ho oro. Ok, è l'unica arma che ha d'oro. A parte Fred De Palma, sopra il beat, non sono d'oro. Non sono come loro. Mi dispiace, c'è un albero e io ho ucciso il castoro. Vabbè. Ma perché c'è il computer che va tutto da solo, non so che c'è niente io. Si, perché c'è il joystick pazzo. Come il tuo. Bam. Fred De Palma, prima uccisione. Ho ucciso quel coglione. Se. Se. Dai, non riesco a chiuderlo, perché se mi impegno non riesco a giocare. Guarda sto camper, come fai a camperare. Lui fa papam. Io spawno di fianco al nemico. Mi fa papam. Papam. Lui qua, lo indico col dito. Ok, lascia stare. Voi non siete capaci di improvvisare. Io l'ho ucciso e vado avanti. Sono forte, sono uno dei più grandi. Fred De Palma. Abbassate un po' sto beat che non mi sento. Sentite il beatbox di Enrique che è peggiorato la luce una volta. Attenzione. Provo la drop shot. Non va bene. Non ho fatto gol. Lascia stare. Lui dice basta. Io mangio la pasta. Come basta dell'Udinese. Faccio freestyle fino a fine mese. Che schifo. Faccio ridere da solo. Il predator mi ha manchiato e mi ha salvato il culo. Il culo. Allora abbiamo chiamato un M4. Mk14 per terra. Per entrare a fare un giocatore mi girava Kimmo come i nabbi. Sì, beh, tra l'MP7 e... No, comunque... Eh, le ha fatte lui le caglie. Perché tu sei solo un bimbo. Caffè K Kimbo. No, dai. Alle Davi 91-98 ti ammazza. Caffè la pazza. Incrissima. Comunque c'è Frede Palma, non c'è le Davi 91-98. Sia simpatico. Ma Frede Palma era andato in bagno. È tornato ad otto zampe proprio come un ragno. Fa le rime tipo ragnatela. Li ricordate l'altro tutti contro tutti era in favela. Oh, chiusa. Bene. Ma non è chiusa. Era in favela. Eh. No, cazzo dici. Coglioni. Questa qua è vita. Ah, è vero. Guardalo. Che cazzo sto facendo. Coglioni. Ma chi è te? Ma non mi piacerebbe che sei immortale, è figa. Eh, non mi piacerebbe che... Allora, io ho tirato... Allora, io ho tirato il doppio mob. Cioè, io ho tirato il doppio mob. Però non me l'ha salvata perché c'è stato il cambio dell'osco. Oh, c'è Frede. Ma porca... Eh, come facevano lì. C'è stato il cambio dell'osco quindi mi ha salvato la mia partita. Guarda che non lo becca. Guarda che non lo becca. Guarda che non lo becca. Ha visto che non lo becca. Virata dell'ultimo secondo. Ha beccato, vabbè. Salta tutto. Bravo. Ok. Io farei una partita. Ok, ora faccio un pezzo di Frede Palma molto famoso. Prima riesco a distruggere questa roba. Madonna, ma tu ci vai addosso, non c'è un'altra roba. Eh, devo distruggere. Ok. Zitti, zitti, zitti. Allora, tutti conosceranno Look at me down. La canzone di Frede Palma che è sulla base di Look at me now. Ovviamente sarà capito. Vi Frede Palma a dirti. Io... Cioè, oggi avendo qui con noi Frede Palma... Se... Possiamo... ... fare... Possiamo fare questo pezzo. Frede, quando ci sei, attacca. Se... Giro con i Brass che mi girano per casa, giocano per casa loro, lo portano a casa loro. Io mi giro per ti chiedo un giro, per ti giro l'ordine. Se che giro col giro, tu canti in giro come Gino Paoli. Onimeremo è una figata. La tua macchina figola regata. Sono in un mare di alco che sono una regata dopo me. Non c'è nessuno come dopo una retata. Giro con la gente mia. Questa finta gente via. Ti faccio l'argenteria. Voi chi siete cosa siete. Siete vinta a getteria. Parli di panetta e male. Siete sempre in interietti. Spacchiate sullo schermo del computer. Come se metti la testa all'interno del subwoofer. Siate sulle mie ricopre. Mi dispiace. Non sei tu perché c'è tutte queste punte. Spacco tutte queste punte. Ma... Vieni con i Brass che più ti vanno alla festa. Mentre dammi dietro. Chiudi con la finestra. Frede Palma. Cicciccidesta. Deve non fare il panca piare che sono un panca bestia. Scrivono come vivi. Non scrivi come vivi. Dimmi. Sabina. Ticciccidesta. Vieni con i Brass che vi è cittadini. Ciao. Ora togli i fogli. Ok. Grazie Frede Palma. Grazie Frede Palma che è stato con noi qui oggi. Ora... Dai non chiede mortare. Ciao Fred. Sssss. Sss. Ok. Ora mi hanno superato quindi cominciamo a giocare la serie. Ehm. Niente. Dai parliamo un po'. Abbiamo visto che il video che tutti ritenevano inutile ma che ho caricato io di 15 secondi è quello con più visualizzazioni del canale. Ben 407 tuttora Abbiamo 111 iscritti Quindi Tra poco mi saperemo di ringraziamento Ma va, fa un culo Ti pare, non ci dà neanche un attivo Guarda Guardami Guarda che stalker di Di robot di Mi piace nei robot Io mi faccio con i robot Colpo alla testa Attenzione Dicendo l'assalto No, non è È quello che segui Cazzo no, se non è Ti sei distrutto Guarda che arriva Ninja Beh Il diputato Non sa qua Ecco lo strontano Non c'è un cazzo di radar Guardalo È lì, guardalo Vedi Una Siamo molti perccando sul Lì Bisogna vedere se riescono a riuscire Guardalo Guarda ti perccando dietro Ti perccando dietro Che cazzo fa Hai visto? Non c'è più o è scomparso? No Sì Madonna Vedi se vieni dritto in faccia Oh guarda che sono ancora in lotta per la vittoria Vabbè comunque sia Niente So che siete precisissimi dalla partita Ma che fosse una bella partita Comunque Volevamo ancora un video di play-off-sure Sì, è proprio una partita Però non ci giochiamo altamente tanto Black Ops 2 Che si è rimasto indietro di tipo 4 aggiornamenti Ma non ho sbagliato Non ci giochiamo altamente Allora voleva fare un video A parlare di tu A parlare di tu Voleva fare un video di Black Ops 2 Però siccome non ci giochiamo altamente tanto Siamo indietro di tipo 5-6 aggiornamenti Sì Quindi ci voleva 2 ore per fare aggiornamento E che sbatto Così io penso che ci si può fare Il motore 4 e 3 Tanto non so se è un fenomeno Eh? Dopo questa partita è proprio Dainable power Allora cazzo me ne piaga tanto No, te ne frega Cazzo meno della preve Basta su computer Vuole sempre farsi notare Allora i computer di ferrista vuole sempre farsi notare Sempre stata una persona così Una persona Ci ha provato anche con me Sì è vero Qua una puttarella Tutte le armi che prende uccide lui Tutte! Che amai è sta roba? No, ma come è possibile? Che buonessere di merda che hai Oh, sei primo? No No, stanno un secondo Si è arriva 30, giusto? Sì, è l'ultima volta al 360 È live tranquillo No, non farlo Ciao Devi vincere No, senta che cazzo messo Giulia Se mi gira la Kim Ma buoni di merda Oh Oh Ne ferisce 5 Andrerichia è silenziosa Sta pensando alla boccatura Sì Ma che cazzo? Dov'era che era questo? Ci credo che è primo quello E fermo lì Vieni qui di brasa che poi ti panno la festa Mentre dammiti dentro l'occhio di finestra Ma la peccato Oh Attaccato Attaccato Sì, il 360 No Sì, il 360 Ho visto Ma coltello Ma tu non lo usi coltello? Dopo a fine partita ve li metteremo Il 360 con la Samtex attaccata Per farlo notare Sto cazzo No, lo rimettiamo Oh, dai, mi viene a chiesa proprio ciò Maggi Sarai io Vabbè, scopi? No, Fede, no, Fede È già tanto se ha un David Mierda Guarda, chi sei stretto vicino Eh, no, ma tanto Quella lì ti colpisce sempre Ciao Sono primo Cioè, i musimbetti Se ti stai non ti dovrebbero colpire Eh, infatti non ero la musimbetta Ma ero lì, l'IMS Ah, vabbè, sbagliato Ma la che labo che sono qua? Ci sta Ma qui ci sono le polcine Sì, qui ci sono Mi ricordo Mi piaci Ma come? Come fai ad essersi rotto? Aveva appena sparato Sare che ieri stavo cercando la scuola Come andare prossimo? Ma cazzo cambi scuola Vabbè, cosa rimango in quella scuola? L'hai già fatta la prima, no? La passi di sicura adesso Eh, ma se vengo bocciato Allora che non è che devi cambiarla per forza Eh, capite? Ma cambio, vado un professionale Ma perché? Eh, figa A fare l'elettricista Poi viene bocciata anche un professionale E dove vado? E ti suicidi Mi vado a lavorare No, va bene Vabbè, poi c'è anche il lavoro Oh, no, ma su stronzolo sta vincendo perché c'è l'elicottero Ma poi mi lo trovo, va bene No, no, non posso perdere in questa maniera Guarda, come cazzo vai? No, che non lo prendi Vado a fare parrucchiere, sì E parlo di Guarda che arriva, guarda che arriva l'ultima No, è l'ultima No, era lì No Ma dove facevi uno normale, cazzo Ma guarda che lo stavo prendendo Non deve farci te rode Eh, vaffanculo, vincere con gli MS Ok, niente Che non è neanche per cazzo Vabbè, ho visto guarda Gli MS non ho mai capito come funziona Vabbè, niente Se fosse una bata partita Minchia ad still il risultato, eh 2926 2926 Vabbè, ci vediamo prossimo video che la macchina scarica bella